Ti piacerebbe realizzare la maschera di agamennone con la tecnica dello sbalzo? Vuoi provarci? Nulla di più facile. Ti basterà stampare da internet una maschera di agamennone da colorare. Poi dovrai acquistare un foglio di rame in cartoleria 21x30 cm e gli strumenti adatti allo sbalzo, detti punzoni. Possono essere appuntiti per tracciare le linee di contorno e arrotondati per creare i volumi. Puoi usare anche dei tappi di penna appuntiti e dei cucchiaini. Ti occorrerà inoltre un asciugamani morbido in spugna. Lo sbalzo si realizza a rovescio, perciò dopo aver messo il foglio di rame con la parte argentata in alto, devi poggiare su di esso il foglio con il modello della maschera e con un oggetto appuntito puoi ricalcare il contorno. Dal lato color rame si vedrà la figura in rilievo. Poi devi posizionare l'asciugamani sotto il foglio di rame e lavorare sempre sulla parte argentata. Con un oggetto con punta arrotondata o con un cucchiaino puoi scavare all'interno dei contorni per evidenziare i volumi. Il risultato finale sarà davvero sorprendente.